La quarta generazione di Audi A3 è tutta nuova ma rimane fedele a se stessa, evolvendosi nello stile esterno e rivoluzionando l'abitacolo con più connettività e digitalizzazione. Nella testa della prova su strada scopriamo le tante novità della hatchback premium tedesca. Se non l'avete ancora fatto, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad azionare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri ultimi contenuti. A dispetto del progetto totalmente nuovo, le proporzioni di Audi A3 2020 rispetto al modello precedente non cambiano, ma la resa estetica è decisamente più sportiveggiante grazie a superfici carrozzerie più spigolose e definite, specialmente se si sceglie il pacchetto estetico S-Line. Cresce in larghezza la calandra single frame esagonale, resa più sportiva dalla trama a nido d'ape. Il design aggiornato è anche frutto di uno studio aerodinamico che ha portato a una riduzione del CX, ora pari allo 0,28. Scenografici, come da tradizione, i gruppi ottici LED Audi Matrix con luci diurne a matrice composta da 15 diodi, modulabile per offrire una firma stilistica diversa in base alle varianti vettura. Le dimensioni della nuova Audi A3 crescono di poco, con 4,34 metri di lunghezza, 1,82 metri di larghezza e 1,43 metri di altezza, per un passo di 264 cm, mentre cresce lo spazio per i passeggeri, specialmente al posteriore. Il vano bagagli, che offre un piano regolabile su diversi livelli, ha una capacità di 380 litri. Si riduce infine il peso, che sulla versione 1.5 TFSI ferma l'ago della bilancia a 1.280 kg, questo anche grazie all'adozione del cofano in alluminio. Come anticipato, le più grandi novità di A3 sono all'interno, dove la plancia spigolosa richiama quella di Q3. Rispetto al SUV compatto, A3 aggiunge le bocchette dell'aria simmetrica attorno al volante. Di serie la strumentazione digitale da 10,25 pollici, optional quella configurabile virtual cockpit da 12,3. Al centro della plancia spicca il display da 10,1 pollici del sistema di infotainment MIB3, un impianto evoluto grazie alla connettività Car2X, la rete LTE, Hotspot Wi-Fi, Apple CarPlay e Android Auto Wireless successivamente al lancio e app MyAudi per gestire da remoto diverse funzioni della vettura. Passando alla dinamica di guida, una piacevole conferma è la presenza della trazione integrale 4, che su A3 viene proposta con frizione elettroidraulica a lamelle, in grado di inviare al retrotreno fino al 100% della coppia in caso di scarsa aderenza. A questo si abbina il sistema di gestione selettiva della coppia alle singole ruote, nonché come optional lo sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili in base alle modalità di guida e le sospensioni adattive. La gamma motori di Audi A3 2020 è inizialmente declinata in tre offerte, 1.5 TFSI da 150 CV e 2.0 TDI con potenze da 116 o 150 CV. Successivamente al lancio debutterà il 1.0 TFSI da 110 CV, nonché il 1.5 TFSI con tecnologia mild hybrid a 48 V. E ancora sono attese le varianti a metano e l'ibrida plug-in. Tanti gli ADAS presenti per la prima volta, tra cui l'assistente per evitare gli ostacoli, l'avviso di uscita posteriore e anteriore, l'adaptive cruise assist per la guida semi-autonoma, anche predettivo, e il mantenimento di corsia evoluto. I prezzi di nuova Audi A3 2020 partono da 29.150 euro con una gamma articolata negli allestimenti Base, Business, Business Advance ed S-Line Edition. La data di uscita di nuova Audi A3 Sportback nelle concessionari italiane è prevista per il secondo trimestre del 2020. Come di consueto per l'articolo completo vi invito ad andare sul nostro sito www.showcar.news Per qualsiasi commento scriveteci al nostro numero di WhatsApp o SMS e non scordate di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram. Vi ricordo ulteriormente di iscrivervi al canale e di azionare la campanella per i nostri ultimi contenuti.